Benvenuti a un nuovo video sul mio canale dedicato alle crociere. Oggi esploreremo il meraviglioso mondo delle crociere e scopriremo perché sono un'esperienza di viaggio indimenticabile. Sono qui per condividere con voi la mia esperienza e tutto ciò che c'è da sapere su questo affascinante modo di esplorare il mondo, inclusi alcuni suggerimenti esclusivi su cosa fare a bordo e durante le escursioni. Una delle ragioni principali per cui le persone scelgono le crociere è l'opportunità di esplorare diverse destinazioni in un unico viaggio. Ecco un suggerimento. Pianificate in anticipo le escursioni a terra in modo da massimizzare il vostro tempo nelle destinazioni. Cercate escursioni che corrispondano ai vostri interessi, che si tratti di avventura, cultura o relax. A bordo di una nave da crociera, il comfort e il lusso sono alla portata di tutti. Per rendere il vostro soggiorno ancora più piacevole, approfittate dei servizi offerti dalla nave, come gli spettacoli teatrali altamente professionali, le serate al ristorante, lo shopping nei vari saloni della nave. Sono spesso inclusi pacchetti culinari o ristoranti che vi permettono di assaporare una varietà di piatti prelibati. Durante i giorni in mare, approfittate delle numerose attività a bordo. Suggerimento. Partecipate a lezioni o workshop che vi interessano, come lezioni di cucina, sessioni di yoga o corsi di ballo. È un modo fantastico per imparare qualcosa di nuovo mentre vi divertite. Esplorate la cucina eccezionale a bordo. Oltre ai ristoranti principali, molte navi offrono cene tematiche, assolutamente da non perdere le serate di gala. Assicuratevi di prenotare i ristoranti tematici in anticipo per non perdere queste esperienze gastronomiche uniche. Per un completo stacco dalla routine, concedetevi un giorno alla spa. Prenotate un trattamento rilassante e godetevi il centro benessere della nave. Inoltre, potete rilassarvi al sole sulla piscina, leggere un buon libro nelle aree più tranquille della nave. Per chi ama lo sport e l'attività fisica, è disponibile anche una palestra attrezzata. Per socializzare, partecipate alle attività a bordo. Molte navi offrono feste a tema, serate di karaoke o eventi culturali. È un'ottima opportunità per incontrare persone interessanti da tutto il mondo. Durante le escursioni a terra, esplorate la cultura locale. Suggerimento Organizzare delle escursioni fai-da-te anche in gruppo può essere una buona idea per trascorre una giornata in compagnia all'insegna del divertimento. Assaggiate cibo tradizionale e immergetevi nella storia e nella bellezza delle destinazioni. Se amate la natura e l'avventura, partecipate a escursioni come snorkeling, trekking o safari. Portate sempre con voi una fotocamera per catturare momenti indimenticabili e paesaggi mozzafiato. Per occasioni speciali, Prenotate pacchetti romantici, festeggiate con una cena a lume di candela, organizzate un compleanno o una ricorrenza speciale, come un anniversario di matrimonio. Le crociere sono il luogo ideale per celebrare momenti unici nella vita. In conclusione, le crociere offrono un'esperienza di viaggio completa, che combina esplorazione, comfort, divertimento e relax. Utilizzate questi suggerimenti esclusivi per rendere il vostro viaggio ancora più memorabile. Che voi siate viaggiatori esperti o alla ricerca della vostra prima crociera, questo è il momento di prenotare il vostro prossimo viaggio indimenticabile. Per non perdere i prossimi video, iscrivetevi al mio canale per ulteriori consigli e informazioni sulle crociere. Grazie mille! Ci vediamo presto a bordo di una nave da crociera! Ci vediamo!